Nur va giù e calcio di rigore per il Lorian e anche ammunizione per Abdel Nur. Abubakar contro Subasic. Fischia l'arbitro. Va Abubakar, sazzo Subasic. Il Lorian è subito avanti, ha ricominciato come aveva chiuso la scorsa stagione. Fanzana Abubakar è 1-0. Ancora il Tigre, fuori da Germán. Berbatov con il tacco, va giù. E calcio di rigore per il Monaco, lo ha guadagnato Dimitar Berbatov. La concentrazione di Falcao, fischia l'arbitro. Va Falcao! 200 giorni dopo il ritorno del Tigre è più graffiante che mai, 1-1. Ora il Monaco è scoperto, può correre sulla destra la vigna, può puntare la porta. La vigna! La piazza all'angolino la vigna, incredibilmente! Il Lorian è ancora avanti.